Come gruppo consigliare, come ovviamente segreteria cittadina, riceviamo numerose lamentele da parte dei cittadini di Pescara che i medici curanti non rispondono più al telefono. Sì va bene l'allarmismo del covid, ma comunque bisogna rispettare i protocolli, perché poi di converso che cosa accade? Che quando una persona si sente male e non ha risposta al suo medio curante, che è ovviamente la persona che chiama per prima, dove va? Al pronto soccorso. Ciò che tutti i medici in questo momento, anche a livello locale, a livello regionale, a livello italiano, ci dicono di non andare al pronto soccorso. Quindi bisogna ovviamente allertare e richiamare i medici di base al loro servizio e al loro lavoro. Come lo faremo? Sicuramente lo faremo scrivendo al sindaco nei prossimi giorni, perché voi sapete che il sindaco è il presidente dell'organo distretto dei sindaci dell'ASA di Pescara, con cui ovviamente noi dialoghiamo spesso, perché il nostro sindaco ovviamente stiamo in maggioranza e lo sosteniamo da sempre, da quando è iniziata questa consigliatura, e dovranno convocare i rappresentanti dei medici di base per fargli capire che così non va, e che così si intase il pronto soccorso, si creano disagi, disfunzioni, che ovviamente questa ASA non si può permettere in questo momento storico, dove il virus qui a Pescara si sta facendo veramente importante, e non per questo il presidente Marsiglia ha dichiarato zona rossa.